L'Allegra Botteghina, negozio di abbigliamento bambino-bambina dai 0 ai 12 anni, è a Marina di Massa, in via Colombo 17, con apertura dal martedì alla domenica. Vieni a trovarci per vedere i nostri capi firmati, accessori, scarpine, costumi e scoprire le ultime novità. Ci trovi anche sulla nostra pagina Instagram del negozio, l'Allegra Botteghina. L'Allegra Botteghina, il buon gusto nel vestire è qualcosa di innato, come la sensibilità nel palato.